segnato ecco azione 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 rete no annullato dall'arbitro chi era sempre di Teddy Mata annullato ha fischiato l'arbitro contemporaneamente mentre il pallone oltre passava la linea di porta era Teddy Mata che con questa rete se lo convalidava era la sua sesta rete della giornata ecco il nostro Gianluca Gianluca allele rimessa laterale sempre Gianluca fatti vedere Luca Ru vieni vicino vieni a Teddy Mata Teddy Mata Teddy Mata Capalbio Angolo vai l'ore l'ore Angolo vai l'entro vai l'entro vai l'entro vai guarda Luca scatatatatatatata vero